Sono José Rivera, pubblicitario di formazione. Recentemente ho cambiato casa editrice. Oggi posso dire che questo gruppo è sicuramente un referente internazionale. Quando parliamo di pelle, parliamo di scarpe, è una referenza. È importante, è importante la misura in cui l'umanità ha focalizzato molto nei risultati secondari del proprio sviluppo delle tecnologie. Non ci ha permesso di vedere quanto abbiamo rovinato la natura. Dobbiamo smettere di questi concetti o perlomeno dobbiamo decidere che quanto vogliamo andare avanti in un senso o nell'altro, ma sempre assumendosi le proprie responsabilità. Cain Leder è la scoperta dell'acqua calda. Mi spiego. Una volta che vedi, conosci e hai un'idea di quello che è effettivamente questo modo di pensare. Tu dici, cavolo, è così semplice. Considero che l'eredità che noi dobbiamo lasciare alle nuove generazioni sono questi nuovi concetti che certe volte si provocano anche delle contraddizioni nel nostro giorno per giorno. Grazie a tutti. Grazie a tutti.